Un bambino orfano sente un rumore e vede il suo cane con una strana borsa. Quello che ha trovato gli ha cambiato la vita. In una città dimenticata dal tempo, dove i palazzi erano segnati dalle cicatrici del passato e le strade risuonavano di echi silenziosi, viveva un ragazzo di nome Luca. Era un ragazzo dai capelli scuri e occhi che nascondevano storie mai raccontate. Luca non aveva una casa né una famiglia. La sua vita era una lotta quotidiana per la sopravvivenza, un'esistenza in bilico sull'orlo dell'invisibilità. La sua unica compagnia era Toby, un cane abbastanza giovane, ma non troppo, con il pelo corto e gli occhi che brillavano, di un'intelligenza non comune. Toby aveva trovato Luca quando era solo un bambino di pochi anni, non che ora sia poi un adulto. Era stato abbandonato in un edificio decrepito e da allora non lo aveva mai lasciato. Insieme formavano un'unità indissolubile, due anime perse che si erano trovate in un mondo che sembrava averle dimenticate. La loro giornata iniziava con l'alba, mentre la città dormiva ancora. Luca e Toby vagavano per le strade deserte, cercando cibo tra i rifiuti e vestiti abbandonati che potessero offrire un minimo di conforto. Mendicavano ai semafori e nei vicoli, estendendo una mano speranzosa ai passanti, i cui sguardi erano spesso freddi o pieni di pena. Nonostante la dura realtà, Luca manteneva un cuore gentile e un sorriso timido. Era conosciuto in città, soprattutto dai commercianti e dai residenti del centro. Molti di loro provavano simpatia per quel ragazzo sporco e malvestito che, nonostante tutto, cercava sempre di aiutare gli altri. Ma la pietà non trasformava i loro cuori abbastanza da accoglierlo nella loro vita. Luca era ben accetto solo fino a un certo punto. La barriera invisibile della povertà e della marginalità lo teneva a distanza. La vita di Luca era una costante ricerca di calore e sicurezza. L'edificio abbandonato dove Toby lo aveva trovato era diventato il loro rifugio, un posto dove potevano nascondersi dal mondo esterno. Le pareti scrostate e i pavimenti sporchi erano lontani dall'essere una casa, ma per Luca era l'unico posto dove poteva sentirsi al sicuro. Nonostante la sua situazione, Luca non aveva perso la speranza. Sognava una vita migliore, di un posto dove poter vivere senza paura e senza bisogno di mendicare. Immaginava un futuro dove lui e Toby potessero vivere in pace, lontano dalle strade fredde e dai giudizi altrui. Luca passava le sue serate seduto sui gradini di una vecchia casa, con Toby accucciato al suo fianco. Guardava le stelle sopra la città, chiedendosi se da qualche parte in quel vasto universo ci fosse un posto per lui. Le storie che aveva sentito da bambino, racconti di eroe e avventure da alcuni passanti, risuonavano nella sua mente, alimentando la sua immaginazione e la sua speranza. Nonostante la durezza della sua vita, Luca aveva sviluppato una resilienza straordinaria. Ogni giorno era una sfida, ma lui la affrontava con coraggio e determinazione. La sua vita era una testimonianza della forza dello spirito umano, capace di resistere anche nelle circostanze più avverse. Luca imparò a fare piccoli lavori quando poteva. Aiutava i negozianti a scaricare merci, puliva le vetrine o faceva commissioni per pochi spiccioli. Ogni moneta guadagnata era un piccolo trionfo. Un passo verso la normalità che desiderava ardentemente, nonostante la sua giovane età. Luca aveva già imparato una delle lezioni più importanti della vita. La felicità non dipende dalle circostanze, ma dal modo in cui si affrontano le cose. Le giornate di Luca trascorrevano in una monotonia sfumata di grigio, dove ogni momento era un tentativo di sopravvivere fino al tramonto. Ma un giorno di inizio primavera, quel grigio venne spezzato da un barlume di colore. Mentre rovistava tra i rifiuti in un vicolo, alla ricerca di qualcosa da mangiare, Luca trovò una borsa di tessuto pesante, abbandonata e parzialmente nascosta da una scatola di cartone. Con mano esitante la apri, rivelando il suo contenuto inaspettato. Una fotocamera digitale, leggermente usurata ma ancora funzionante. Per Luca quell'oggetto rappresentò molto più di una semplice macchina fotografica. Era una finestra su un mondo che aveva sempre visto solo da lontano. Inizialmente esitò a tenere la fotocamera, temendo che fosse rubata o che qualcuno potesse reclamarla. Ma con il passare dei giorni nessuno sembrò cercarla e lentamente, con una curiosità che superava ogni timore, iniziò a esplorare il suo potenziale. Luca imparò a usare la fotocamera da solo, esercitandosi a catturare le immagini della città. I vicoli stretti, i volti delle persone, i momenti di vita quotidiana. Scoprì un mondo che, nonostante la sua durezza, era pieno di bellezza nascosta. Ogni fotografia che scattava era come un pezzo di un puzzle che componeva la storia della sua vita e della città che lo aveva visto crescere. Con il tempo, le fotografie di Luca iniziarono ad attirare l'attenzione. Gli abitanti del quartiere, inizialmente diffidenti, cominciarono a vederlo con occhi diversi. C'era qualcosa nelle sue immagini che catturava l'essenza della loro esistenza, qualcosa che andava oltre la semplice rappresentazione visiva. Luca riusciva a trasmettere, attraverso la lente della sua fotocamera, la realtà di una vita di lotta e speranza. Le sue foto iniziarono a comparire sui muri della città, appese con semplici pezzi di nastro adesivo. Ritratti di persone comuni, scorci di strade, momenti di gioia e dolore. Le persone iniziarono a riconoscere il talento di Luca e con esso iniziarono a riconoscere anche lui. Questa nuova fama portò a Luca piccole commissioni. I negozianti locali li chiedevano di fotografare i loro prodotti. Le famiglie volevano ritratti e persino alcuni turisti si fermavano per ammirare le sue opere. Ogni lavoro era un passo verso l'indipendenza economica. Una piccola vittoria nella sua lunga battaglia contro la povertà. Tuttavia la vita di Luca rimase una sfida. La notorietà non cancellò la sua condizione di senza tetto. Né alle viole difficoltà quotidiane che doveva affrontare. Ma ora aveva uno scopo, una ragione per svegliarsi ogni mattina. La fotografia era diventata la sua voce, un modo per raccontare la sua storia, quelle delle persone intorno a lui. In questa nuova vita Tobi rimase il suo fedele compagno. Il cane anziano, nonostante l'età avanzata, seguiva Luca ovunque andasse, sedendosi pazientemente accanto a lui mentre lavorava. La loro amicizia era un faro di speranza in un mare di incertezza, un legame che continuava a rafforzarsi con ogni immagine che Luca catturava. Le giornate di Luca erano ora scandite dal click della sua fotocamera. Ogni scatto era un dialogo silenzioso con la città, una narrazione visiva delle sue molteplici sfaccettature. Con il tempo la sua arte divenne più raffinata, le sue immagini più profonde quasi come se catturassero l'anima del soggetto. La sua reputazione come fotografo urbano crebbe con essa la consapevolezza della sua situazione. Luca era più di un semplice senza tetto, era un artista, un testimone della vita quotidiana. Le persone iniziavano a guardarlo non solo con simpatia ma anche con rispetto. Le sue opere erano ormai una presenza fissa nelle strade della città, catturando l'attenzione non solo dei residenti ma anche dei visitatori occasionali. Nonostante questa crescente fama, Luca continuava a vivere in condizioni però precarie. La sua casa era ancora all'edificio abbandonato, freddo d'inverno e soffocante d'estate, ma ora riempito di fotografie che raccontavano storie di speranza ed esistenza. La sua vita era una costante lotta tra la realizzazione artistica e la cruda realtà della sua esistenza. La fotografia tuttavia offriva a Luca non solo un'uscita dalla sua condizione ma anche un modo per esprimere ciò che le parole non potevano dire. Le sue immagini parlavano di abbandono ma anche di bellezza nei luoghi più improbabili, rivelavano l'umanità nascosta dietro i volti consumati dalla vita di strada e la forza di coloro che nonostante tutto continuavano a lottare. In questo periodo della sua vita Luca fece un incontro che avrebbe cambiato il suo destino. Durante una delle sue esplorazioni urbane incontrò Anna, una giovane studentessa d'arte che si era fermata ad ammirare una delle sue fotografie. Anna era diversa da chiunque Luca avesse mai incontrato, aveva gli occhi pieni di curiosità e un sorriso che illuminava il suo volto. Era affascinato dalle storie che Luca raccontava attraverso le sue immagini e insieme iniziarono a condividere le loro passioni per l'arte. Anna divenne una presenza costante nella vita di Luca. Lo aiutava a organizzare le sue opere e trovare nuovi spazi dove esporre e a connettersi con un pubblico più ampio. Con lei Luca scoprì un mondo di possibilità artistiche che non aveva mai immaginato. Anna lo incoraggiava a sperimentare nuove tecniche e ad esplorare nuovi temi, spingendolo a oltrepassare i limiti della sua espressione. La casa abbandonata di Luca si trovava fuori dalla frenesia della città immersa in un paesaggio tranquillo e circondata dalla natura. Era un luogo isolato e silenzioso dove la coppia poteva godere della loro privacy e concentrarsi sulle loro passioni artistiche. Dopo la laurea di Anna avevano preso la decisione di trasferirsi nella casa abbandonata di Luca, trasformandola gradualmente in un rifugio accogliente e confortevole. Anna portò con sé la sua creatività e il suo talento artistico, decorando le pareti con i suoi dipinti e rendendo la casa un luogo di bellezza e ispirazione. Luca, d'altra parte, aveva iniziato a utilizzare il paesaggio circostante come fonte di ispirazione per le sue fotografie. Le colline, i campi aperti e i boschi intorno alla casa fornivano una cornice ideale per le sue immagini, aggiungendo una nuova dimensione alla sua fotografia urbana. Toby, il fedele cane di Luca, aveva trovato un ambiente perfetto per correre e giocare nei vasti spazi aperti intorno alla casa. Era diventato un membro inseparabile della famiglia, contribuendo a rendere la casa un vero e proprio rifugio di calore e affetto. Nonostante le difficoltà iniziali e le sfide che dovevano affrontare, Luca e Anna stavano costruendo una vita insieme basata sulla loro passione per l'arte e sulla loro connessione profonda. La casa abbandonata era diventata il luogo di crescita personale e artistica della coppia, un luogo in cui potevano esplorare le loro passioni e sostenersi a vicenda nei momenti di difficoltà. Anna continuava a vendere i suoi dipinti e le gallerie d'arte locali iniziavano ad accorgersi del suo talento emergente. Nel frattempo, Luca aveva acquisito sempre più notorietà come fotografo, con le sue immagini che venivano esposte in mostre regionali e ricevevano riconoscimenti per la sua capacità di catturare la bellezza della natura circostante. Nonostante le sfide finanziarie che affrontavano, la coppia aveva imparato ed era felice di condividere il loro amore e la loro passione artistica. La casa abbandonata rappresentava il loro rifugio, un luogo in cui potevano essere se stessi e continuare a crescere insieme. Ma qualche tempo dopo era arrivata in file la notizia che Luca temeva di più, la morte del suo migliore amico. La malattia e la morte di Toby, il fedele cane di Luca, rappresentarono un momento devastante nella vita di entrambi. Toby era stato il compagno di Luca fin dai suoi primi giorni come senza tetto, quando era solo un bambino. Il legame tra loro era profondo e il cane aveva svolto un ruolo fondamentale nella sopravvivenza di Luca per le strade della città. Un giorno Luca notò un cambiamento nel comportamento di Toby. Il cane sembrava più stanco del solito, con gli occhi che non brillavano più come una volta. Preoccupato, lo portò dal veterinario dove gli fu diagnosticata una grave malattia, una malattia che però non poteva essere curata per via della sua vecchiaia. Tutto stava diventando più cupo. Luca tornò a casa dal veterinario quel giorno, seduto accanto a Toby mentre il cane riposava nella sua cuccia. Era il suo turno di confortare l'animale che lo aveva sostenuto in ogni fase della sua vita difficile. Le mani di Luca carezzavano il pelo di Toby mentre le lacrime li riempivano gli occhi. Toby, amico mio, abbiamo passato così tante sfide insieme, sussurrò Luca con voce rotta dall'emozione. Sei stato il mio unico sostegno. Quando ero solo un bambino per le strade di questa città, non so come avrei fatto senza di te. Anna, che aveva notato il dispiacere di Luca, si avvicinò silenziosamente e si sedetta accanto a lui. Posò una mano sulla spalla di Luca e disse con gentilezza, Luca, Toby sa quanto lo ami. È stato un compagno incredibile per te e ha condiviso ogni momento della tua vita. Ora è il momento di prendersi cura di lui e assicurarsi che sia il più felice possibile nei suoi giorni rimanenti. Le parole di Anna portarono un minimo di conforto a Luca, ma la tristezza e l'angoscia erano ancora presenti. Erano passati molti anni da quando Toby aveva salvato la vita di Luca, proteggendolo e fornendogli un senso di appartenenza quando era un bambino senza tetto. Toby era stato il suo unico amico in quei giorni difficili. Nelle settimane successive Luca e Anna fecero tutto il possibile per garantire che Toby avesse il massimo comfort e amore. Lo portavano a fare passeggiate lente nei luoghi che amava, lo accudivano con cure amorevoli e gli preparavano i pasti preferiti. Nonostante gli sforzi, la salute di Toby continuava però a peggiorare e Luca si sentiva sempre più impotente. Una sera, mentre Luca e Anna erano seduti vicino a Toby che giaceva debole sulla sua cuccia, Luca sussurrò. Anna, mi fa male vederlo così, mi sento così inutile. Toby mi ha salvato quando ero solo un bambino, mi ha tenuto al caldo nelle notti più fredde e mi ha dato amore incondizionato. Adesso vorrei poter fare qualcosa per alleviare la sua sofferenza. Anna prese la mano di Luca e rispose con dolcezza. Luca, non sei inutile, hai dato a Toby una vita piena di amore e affetto e adesso stai facendo tutto ciò che è possibile per lui. La tua presenza accanto a lui è la cosa più importante in questo momento e quando il momento giusto arriverà dovremo trovare la forza di dire addio e lasciarlo andare in pace. Le parole di Anna erano un conforto per Luca, ma il suo cuore era ancora pesante. La malattia di Toby si aggravava giorno dopo giorno e il momento della separazione si avvicinava sempre di più. La coppia si sostenne a vicenda durante questo periodo difficile, cercando di fare del loro meglio per rendere l'ultima parte della vita di Toby confortevole e felice. Infine, il giorno tanto temuto arrivò. Luca e Anna portarono Toby al veterinario per un'ultima visita. Lì, circondati dall'amore e dalla compassione del personale veterinario, dissero addio al loro amico a quattro zampe. Luca tenne Toby tra le braccia mentre il cane si addormentava per l'ultima volta, sentendo il battito del suo cuore che si fermava lentamente. Le lacrime scorrevano liberamente sulle sue guance, mentre teneva Toby tra le mani. Grazie amico mio per tutto quello che hai fatto per me, sussurrò con voce rotta. Sarei sempre nel mio cuore. Anna abbracciò Luca con forza offrendogli il suo sostegno mentre piangevano insieme per la perdita di Toby. Sarà sempre con noi Luca, disse con gentilezza Anna. Ha avuto una vita meravigliosa grazie a te e il suo amore continuerà a vivere nei nostri cuori. La morte di Toby lasciò un vuoto profondo nel cuore di Luca, ma aveva anche rafforzato il legame tra lui e Anna. Avevano affrontato insieme una delle sfide più difficili della vita, dimostrando quanto potessero sostenersi l'un l'altro nelle situazioni più dolorose. Mentre continuavano a vivere nella casa abbandonata fuori città, il ricordo di Toby rimase vivo, ispirandoli a perseguire le loro passioni e a trovare conforto l'uno nell'altro mentre affrontavano il futuro con coraggio e amore. Luca aveva deciso di fare un viaggio nel passato intanto, di rivivere i vecchi momenti e visitare i luoghi dove aveva condiviso momenti speciali con Toby, il suo amato cane che ora non c'era più. Era un modo per onorare la memoria del suo fedele compagno e trovare consolazione nei ricordi condivisi. Uno dei luoghi che aveva deciso di visitare era quel vecchio cassonetto, il luogo dove aveva trovato una borsa con una fotocamera dentro molti anni prima. Quella fotocamera aveva segnato l'inizio della sua passione per la fotografia, un interesse che lo aveva accompagnato per tutta la vita, e gli aveva cambiato la vita ovviamente. Quando arrivò al cassonetto, una figura anziana c'era già presente però, seduta accanto ai rifiuti con le lacrime che rigavano il suo volto rugoso. Luca si avvicinò con cautela chiedendosi cosa potesse essere successo. L'anziano lo guardò negli occhi e scoppiò in un pianto ancora più forte. «Signore, cos'è successo?» chiese Luca con gentilezza, preoccupato per la persona in difficoltà. Dopo un momento l'anziano riuscì a recuperare la parola e disse con voce tremante «Tu sei Luca, giusto? Sono tuo padre!» La sorpresa di Luca fu immensa. Non aveva mai visto suo padre da quando era stato abbandonato da bambino, quando aveva soltanto dieci anni. Era cresciuto insieme a Toby, anche lui abbandonato per le strade della città, sopravvivendo come poteva. Ora, di fronte a lui c'era suo padre, un uomo anziano che aveva visibilmente sofferto nel corso degli anni. «Sì, sono Luca», rispose ancora incredulo. «Ma perché sei qui? Cosa è successo?» Il padre di Luca raccontò la sua storia, una storia di sofferenza e lotta contro una malattia mentale che lo aveva attormentato per gran parte della sua vita. Aveva più di una personalità e aveva anche perso sua moglie per questo, la madre di Luca. Dopo la perdita aveva deciso di abbandonare anche Luca. Quest'ultimo non ricorda più niente di quel giorno traumatico e era stato troppo per la sua mente, il padre disse che l'aveva abbandonato in un edificio dove di solito si abbandonano i cani. Spiegò che in uno dei suoi momenti di lucidità aveva lasciato quella fotocamera in quel cassonetto, perché aveva visto Luca più di una volta andarci. Sperando quindi che suo figlio, anche se era stato costretto a crescere senza di lui, potesse realizzare qualcosa, o meglio un sogno, che aveva avuto lui come padre. Voleva che suo figlio diventasse un fotografo. Luca ascoltò il racconto di suo padre con un misto di emozioni. Era profondamente commosso dalla complessità della situazione, ma allo stesso tempo non poteva evitare di provare rabbia e amarezza per il dolore che aveva vissuto per anni senza il sostegno del padre. Non riesco, non riesco a perdonarti, disse Luca con sincerità. Ho trascorso la mia infanzia senza di te. La mia vita è stata una lotta costante, anche se ora ho trovato amore e felicità con Anna, non riesco a dimenticare tutto ciò che ho passato. Il padre di Luca abbassò lo sguardo, incapace di sostenere lo sguardo di suo figlio. Lo capisco, disse con voce affranta. Non posso cambiare il passato, ma spero che tu possa trovare un modo per accettare le mie scuse. Luca decise di lasciare suo padre al suo dolore e si allontanò dal cassonetto, tornando a casa con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime. Era un momento di profonda tristezza e aveva bisogno di condividere tutto con Anna, la persona che lo aveva sostenuto in ogni fase della sua vita. Anna lo abbracciò con affetto quando lui tornò a casa e ascoltò attentamente il suo racconto. Luca disse con gentilezza. Capisco quanto sia difficile per te affrontare tutto questo. La tua reazione è comprensibile, dato quanto hai sofferto, ma devi riprenderti. Luca annui. Le lacrime scorrevano ancora sulle sue guance. So che dovrei trovare un modo per perdonarlo, ma è così difficile. Anna lo strinse ancora più forte. Ciò che è importante è che tu abbia la tua vita ora e che tu stia cercando di costruire un futuro migliore. Forse col tempo troverai la forza di perdonare tuo padre, ma non adesso. Gli anni passarono e Luca e Anna continuarono a sostenersi l'un l'altro nella loro vita insieme nel tempo. Luca trovò la sua chiamata, una missione che avrebbe dato un significato ancora più profondo alla sua esistenza. Non riusciva ad accettare l'abbandono dei bambini, una realtà che aveva conosciuto troppo bene da giovane. Con l'appoggio di Anna e Lucky, il loro nuovo cane domestico, Luca decise di mettere in pratica la sua passione per l'arte e il desiderio di aiutare gli altri. Insieme si trasferirono in un piccolo appartamento in città e fondarono una fondazione per aiutare i bambini orfani abbandonati nelle strade della città. Crearono programmi per fornire cibo, alloggio, educazione e soprattutto amore e sostegno a quei bambini in difficoltà. Questa nuova missione diede un significato profondo alla vita di Luca e lo aiutò a trovare un modo per canalizzare la sua rabbia e il suo dolore in qualcosa di positivo. Con Anna al suo fianco lavorarono instancabilmente per migliorare la vita dei bambini che avevano conosciuto la stessa sofferenza di Luca. La storia di Luca e Anna era diventata una testimonianza di resilienza, perdono e amore. Nonostante le avversità e le ferite del passato, avevano trovato la forza per creare un futuro migliore per se stessi e per gli altri. La fondazione che avevano creato rappresentava la loro dedizione, a fare la differenza nelle vite dei bambini che avevano conosciuto, la stessa solitudine e l'abbandono che avevano sperimentato da giovani. La loro storia dimostrava che anche nelle situazioni più difficili era possibile trovare un modo per trasformare il dolore in speranza e l'amore in azione.